Mi chiamo Lorenzo e faccio parte del progetto Non Avanguardia da tre anni ormai. Mi ricordo benissimo della prima volta che sono entrato a far parte del progetto, il giorno dei casting. Mi sono presentato ed ero molto timido. Ricordo proprio un po' la paura che c'era dentro di me del fatto proprio di mostrare la propria arte in tutte le forme perché sapevo che c'era non semplicemente una sola forma d'arte ma più forme d'arte quindi appunto oltre che la musica era il ballo, la recitazione, le arti visivi. Allora ho detto ok, arrivo e mi sono presentato. Chissà come andrà. Nel frattempo ero completamente immobile. Mi chiedevano di ballare ed ero immobile. Mi chiedevano di recitare e comunque non mi sentivo sicuro. L'unica cosa che ho fatto è una canzone. Ho pensato vabbè, non mi prenderanno mai. Invece, porca miseria, mi arriva la mail una settimana dopo che ero stato preso e ho detto ma a cosa servirò? A cosa servirò? Cioè quale sarà la mia utilità all'interno di quella cosa? Ed è lì che poi ho capito la chiave. La chiave di tutto. Innanzitutto la prima cosa che ho notato già dal primo giorno è una luce diversa proprio e una famiglia quasi che mi ha accolto proprio. Cioè io mi sentivo in famiglia, mi sento in famiglia quando vengo al progetto Non Avanguardia. Il metodo nella mia vita ha influito in maniera esclusivamente positiva. Cioè non ci sono note negative. Da lì ho capito che era un percorso che facevamo su noi stessi. Quindi praticamente l'arte era semplicemente funzionale alla nostra crescita personale, alla nostra identità, in un certo senso alla costruzione del nostro percorso e della nostra identità anche artistica. Perché ovviamente io nasco come cantautore, quindi canto e suono le mie canzoni. Ma il progetto mi ha donato tantissimi altri spunti. Il metodo mi ha aiutato a sbloccarmi a me come persona. Quindi piano piano tutte le insicurezze, tutte le timidezze, tutte le paure si sono poi trasformate tramite una sfida personale. Cioè forzandomi quasi a uscire dalla mia zona di comfort si sono trasformate in note positive. Quindi scopri che poi puoi recitare, scopri che è bello ballare, è bello muoversi nello spazio, scopri che è bello condividere quello che hai. Non per forza etichettarlo come una sola forma d'arte, quindi per me la musica. Io oggi mi sento un artista, non mi sento solo un musicista. Lavoro, cioè cammino in una direzione che mi fa capire che di voler fare arte nella vita e questa per me è una grande soddisfazione. Il progetto non ha un guardia ti libera, ti libera da tutti quei vincoli, tutte quelle catene che ti impone la società e ti etichettano come una sola categoria. Mentre invece noi siamo più cose, noi dentro abbiamo un mondo che possiamo scoprire che è talmente bello che appunto questo metodo aiuta senz'altro a tirare fuori da te. Non esiste una sola forma di quello che possiamo fare, ci sono tanti modi per muoversi, tanti modi per cantare, tanti modi per produrre forme letterarie, quindi per scrivere, per improvvisare che noi non conosciamo e invece vanno conosciuti perché l'artista è questo, è libertà, essere liberi da ogni vincolo, soprattutto dalla società. Il metodo a livello personale mi ha cambiato moltissimo perché da persona insicura che ero anche un po' pigra, un po' lo so ancora oggi, lo ammetto, però ci sto lavorando. Ho lavorato sulle mie difficoltà, non è stato semplice perché comunque ti metti in gioco, vai via dalla tua zona di comfort e lavori veramente su te stesso, però posso dire a distanza di tre anni che mi ha cambiato, mi ha cambiato, cioè mi sento più pieno, più libero, mi sento più felice. Prima mi facevano paura un sacco di cose, avevo un po' di traumi e piano piano col progetto questi si sono affievoliti e sono entrate tante altre cose belle, positive, la condivisione. sentirti bene in quello che fai, cioè spesso io cantavo canzoni, facevo la mia musica, però non ero felice, allora da là ho capito ok, partiamo dal principio perché poi non è la musica magari in particolare che non ti rende felice, là capisci che sono delle cose della tua vita, dei blocchi che hai dentro che per sbloccare devi affrontare in un certo senso, quindi affrontandoli oggi posso dire che sono sereno, sono sereno nell'arte che deve essere questo, serenità e libertà.